Ci sono voluti quasi due anni, ma alla fine gli abitanti di Cibeno, alla periferia di Carpi, nel Modenese, hanno visto ricomporsi un altro tassello importante della propria storia. Da oggi infatti possono ritornare nella loro chiesa, uno dei tanti edifici sacri lesionati dal terremoto del maggio 2012. È un segno molto importante di riprese della vita cristiana, anche se questa chiesa è assolutamente insufficiente come spazio e ne richiede un'altra per le domeniche comuni. Però è un segno molto bello, posso dire che qualche persona si è anche commossa nel sentire che finalmente la chiesa si riapriva e soprattutto quando ha ripreso il suono delle campane, gente che non viene mai in chiesa, da notare, mi è venuta a ringraziare che finalmente si senta alle campane. Quindi io lo definisco un segno importante di ripresa della vita cristiana e speriamo anche della vita sociale e della vita economica, perché ce n'è molto bisogno. Con un impegno economico di 310 mila euro, finanziato dalla regione Emilia-Romagna e da tanti offerenti, è stato possibile intervenire sul consolidamento del campanile, del sottotetto e delle cappelle della chiesa. Inoltre la facciata principale è stata oggetto di un intervento di ricucitura delle lesioni. Sono stati consolidati i controsoffitti, l'intonaco sottostante è stato messo in sicurezza. La chiesa insomma è tornata, per così dire, agli antichi splendori. Le ferite del terremoto per quanto riguarda la struttura sono state, tra virgolette, recuperate, però ci sono ferite che rimangono. Sì, soprattutto noi paro e ci lamentiamo la diminuzione o scomparsa di quello che io chiamo la vita, la pratica personale della fede, cioè la visita in chiesa, entrare in chiesa, accendere una candela, fermarsi in preghiera qualche minuto. Questo è totalmente scomparso. Speriamo che possa riprendere. Soprattutto un fatto molto negativo dal punto di vista catechistico è questo. I bambini ascoltano la messa, adesso vanno a messa, partecipano alla messa in un salone parocchiare. Questo ha fatto perdere loro il senso dell'uomo sacro. Io non posso più dire, ragazzi, silenzio perché siamo in chiesa, perché la chiesa non c'è. Quindi il luogo, un tempo, tu sei un giornalista quindi sei più esperto di me, un tempo si tonava tanto contro le strutture. Adesso abbiamo capito che le strutture sono benedette. Why se non ci fossero le strutture? Sono necessarie alla manifestazione, alla crescita e alla vita della fede del popolo cristiano. Che cosa si augura per la sua parrocchia, per la sua gente a partire da oggi, da questo che è un momento significativo? Mi auguro che riprenda quello che ho chiamato la vita personale, l'espressione personale della fede, quindi il luogo sacro, la visita in chiesa, amare anche quei luoghi che sono stati espressione e anche luogo di educazione alla fede nelle generazioni passate.